Eccoci insieme con il Biancherosso TV Sport, secondo segmento. Oggi dobbiamo anticipare la telefonata con il grande ex, il grande ospite, perché è in viaggio, so che ci concede un paio di minuti, ma lui sta viaggiando alla volta di Gorizia. Professore Antonucci, le presento Marcello Grassi, ex portiere di Bari e Perugia. Marcello, buon pomeriggio. Ciao, grazie, buon pomeriggio a te. Grazie a te, Marcello. Davvero un piacere. Professore Gianni Antonucci, storico del Bari. Ciao Gianni! Non ci vediamo, Marcello, non ci vediamo dai tempi di quando stavamo in ritiro a Piobbico. Te lo ricordi? E' un po' di te, certo, non lo ricordo. Come faccio a non ricordare? Noi poi tra l'altro ti prendemmo dal Perugia e col Perugia avremo la prima partita in casa della nuova gestione del nuovo football club Bari 1908. Marcello Grassi, lo seguo attraverso Facebook, è molto legato alle piazze dove ha giocato, no? Perché a volte vedo che posta delle fotografie di quando era portiere del Bari piuttosto di quando era portiere del Perugia o dell'Ascoli o di altre squadre, no? Sì. Lei le porta un po' tutte nel cuore. Bari, nel suo cuore, che posto occupa? Diciamo, io non è che ho una parte di più, una parte di meno. Per me le società in cui ho militato sono tutte uguali. Cioè, spero che facciano quando giocano risultato. Oggi, cioè domani se ho incontro e vinca il migliore, dai. Vinca il migliore. Portiere acrobatico, ricordo bene? Ma non so se ero acrobatico, ero uno che non faceva molta scena, diciamo questo. Io ricordo in particolare una sua partita fantastica, mi ricordo che la Rai trasmise il secondo tempo di quella partita, il primo tempo, un Pisa-Bari 0-0, dove il Pisa attaccò tutta la partita e Grassi, credo che parò 10 volte alla grande. Ricorda questa partita in particolare? Sì, un qualcosina ricordo, perché se dovessi ricordare tutte le partite sarei un fenomeno vivente. Siccome purtroppo non lo sono, ricordo degli episodi, però naturalmente non tutta la partita. Sarebbe quasi impossibile ricordarla. Mi ricordo, mi ricordo, la seconda, diciamo, ho fatto l'esordio in Serie A, la seconda partita, giocai a Pisa e parai il rigore. Questo ce l'ho ancora in mente. Prima di salutarla, le ricordo un po' i suoi compagni di squadra, perché stiamo mostrando una foto dove lei è in piedi, il primo a sinistra, poi in ordine sparso, accanto, c'è Sasso, Garuti, Frappampina, Tavarilli, Punziano, Chiarenza, Bagnato, Bacchin, Belluzzi e Libera. Questa è la fotografia che stiamo mostrando. Questo è il primo anno della Serie B. Io sinceramente credevo di riuscire a vincere il pionato e andare in A. Purtroppo, a fine settembre, a primi di dicembre, si ruppe sia Gaudino che Libera. Rimase senza attaccanti, è vero. Siamo rimasti senza attaccanti. E noi abbiamo mancato la A per questo motivo. Un breve ricordo del professore Antonucci di Marcello Grassi e poi la salutiamo. Che ricordo ha il professore di Marcello Grassi? Lui è stato un portiere sempre sicuro fra i pali. Ricordo che noi lo prendemmo a Bari dopo aver dato a Lecce De Luca. E siccome fra De Luca e Grassi, senza togliere nulla nessuno dei due, Grassi era migliore, fumo felici di poterlo. Anche perché lui aveva fatto una bellissima partita contro l'Atalanta, ricordo, che vingiamo 1-0 con un gol di Bagnato. Va bene, tanti ben ricordi con Marcello Grassi. La salutiamo. Grazie per la disponibilità e un abbraccio. Ringrazio, un abbraccio a tutti i tifosi. Buon viaggio Marcello. Grazie. Grazie, auguri. Grazie. E vabbè, il discorso Marcello Grassi ci permette di introdurre un po' i precedenti, se d'accordo, di Bari-Perugia. È una partita classica Bari-Perugia. C'è una novità che nessuno ha sottolineato e domani la faremo uscire sulla gazzetta del Mezzogiorno. È la seconda volta, è la seconda volta nella storia del Bari, non è accaduto con altre squadre che la prima in casa coincide con il Perugia. E guarda caso, la prima in casa con il Perugia è stata la prima sfida fra Bari e Perugia. Nel 1933, 81 anni fa, al campo degli sport. Vingemmo 2-0 con il gol di Ferrero, l'ala sinistra, e di Marchioneschi, che lo prendemmo dal Foggia. Io ricordo due partite col Perugia, il mio ricordo personale. Una in campionato, quando il Bari attaccò per 90 minuti e all'ultimo minuto vincemmo sul calcio di rigore trasformato da Ioreo. Era il Bari di Catuzzi sul bagnato, sul campo pesante, il Bari attaccò dall'inizio alla fine. Poi ricordo un precedente in Coppa Italia, perché molti non ricordano, lo stadio era stracolmo come forse non l'avevo mai visto prima. A Bari esordì con la maglia del Perugia Paolo Rossi. Giocammo in Coppa Italia, finì 0-0, lo stadio stracolmo, non fu una bella partita, ma ricordo che la curiosità di vedere Paolo Rossi con la maglia del Perugia era stato l'acquisto miliardario dell'epoca. Insomma, un pubblico pazzesco. Ricordi, dico bene o la memoria mi tradisce? Posso dirti due cose? La prima partita che hai citato tu, a me è importante ricordarla perché? Perché noi stavamo in una serie positiva, la domenica precedente avevamo vinto a San Benedetto del Tronto 2-1 e giocavamo con il Perugia. Il Perugia era allenato da Giagnoni, Giagnoni, te lo ricordi? Quello col bacco in testa. Arbitro della partita, Milan di Treviso. Un uomo veramente eccezionale, oltre che bravo, onesto, oltretutto. Certo che noi al 92esimo, un'azione scaturita da una pulizione, il pallone arrivò vicino in area nostra e Iorio fu atterrato. Rigore, rigore. Giagnoni lamentava che la pulizione non era partita da palla ferma, ma da palla in movimento, per cui diceva che era da non dare il rigore. Io, proprio perché ero entusiasta della vittoria, gli misi sette a Milan, va bene? Apriti cielo, mi fa una telefonata al giornale Giagnoni, quello non capisce niente, aveva ragione tutto sommato. Anche se poi, in effetti, qualche cosa c'era per il rigore. Però io avevo esagerato nel dare il voto all'arbitro. Non era stato impeccabile, diciamo. Non era stato. Allora, a questo punto lui dice, eh, questo non capisce niente, può dar schiera. Facce il tifoso, il giornalista, praticamente. Mentre la seconda situazione che hai citato tu, mi sono trovato in un'altra situazione drammatica, perché tu ricorderai della vittoria, dove stavamo noi, come chiamamolo Sgabuzzino Stampa, da Roma, io facevo il servizio per il Corriere dello Sport, mi chiamavano e io non sentivo il telefono. Era tanto il chiasso che tu hai detto per abbracciare questo Paolo Rossi, tant'è vero che c'ho le fotografie di Paolo Rossi con il bagnato, con la torre e così via, che non sentivi. E io non dovetti, non riuscì a capire che cosa dovessi scrivere di contorno alla partita. Facesti di testa tua, insomma. Andiamo ai precedenti. Abbiamo già visti 16, anzi lo stiamo vedendo in questo momento, 16 partite, 13 in B, quindi una partita classica del campionato.